Oggi è stata una giornata splendida, temperatura quasi primaverina, tutto pronto. Porto campo per noi, Gianni Bazzarini, Claudio Raimondo, potranno intervenire in qualsiasi momento. L'ambito polacco-Mascini è anche l'attesa finita! Bella serata, c'è l'atmosfera delle grandi occasioni. Guardate questa immagine bellissima, i grandi avversari di questa serata. Tutto può succedere in questa grande serata. Non c'è stato un peccato, non c'è soltanto un amichevole, vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tanto, questa comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuove schede controverso di alto livello. Insieme andremo dove, niente ci può fermare, forti come la storia. Tutta pronta allora per cominciare! Mettetevi comodi, potrebbe essere una serata molto lunga! Con te rinasceremo, centomille volte ancora. Burdisso! La tua vittoria sarà! Filtra bene pallone! Il mondo di sole è passione che sale Aleppo, Aleppo, se non vogliamo staremo, E' andato a prendere il giocato di non ciascola tutto evitato. Francesco Vetti per l'uomo, che a bordo campo è un uomo di inferno. La condizione è ovviamente la partita infinita. Se non aveva altra scelta, sapeva che non c'era altro modo per fermare la situazione. Ha deciso di rischiare e ha commesso questo fallo. Il mondo di Geremo Bravante lui! Bravante! Bravante! Ci ha ripagato il ragazzo, non col suo colpo, però l'importante è l'uomo. Liberi come il vento, abbiamo il cuore rosa. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Grande fiuto del gol in quest'azione, ma che errore la difesa. La giornata che conta, uno stadio che canta. La giornata di un saggio, con la sua qualità, con la sua velocità supersonica. Una giocata. Filtro il pallone. Molto bravo. Il vittore è una zona pericolosa. Sempre Palermo, Palermo, sei tutto quello che abbiamo. Piro sanero in eterno, tutto il mondo vingeremo. Piro sanero in eterno, tutto il mondo vingeremo. Sempre al tuo fianco saremo. Cerca spazio, poi lo scontro, bella l'idea. Nel cuore di potremo sempre Palermo, Palermo. Se tutto quello che abbiamo. Si allunga troppo il pallone, non c'è fallo. Da giù, c'è fallo. Pulizioni. Monito, come stare attento. Ti picco tra i due. Rosa, nero, sei l'amore vero. Rosa, nero, sei l'amore vero. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Libertà di movimento per lui, sta creando problemi con la sua classe. Prova lui! Prova a indirizzare male. Tutto buono. Libertà di movimento. Senti sì, prendi un po' di movimento. Ho, 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 ho. Nella cosa pro gli amati. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. crea comunque uno spazio ancora lungo sembra che per il momento è meglio mantenere queste vittate il testo che rischia di contatto ancora lungo l'alimentazione è lui e chi farà? vince lui stanno cercando spazio ma non lo trovano così facilitano il compito della difesa Maxwell è contro lui ne rallenta l'azione caricolò recupera Niccoli tutto solo incredibile di regolo Chiacomotta però lunga fa il controballone di nuovo lunghi può solo sfiorare però che va mi dico marchio il pallone bene spazza via Michael non c'è un altro errore nelle fasi di impostazione non so se sarà possibile tenere questo ritmo anche nel secondo tempo per tutte e due le squadre che stanno spendendo tantissimo si ripartirà dall'1 a 0 nel primo tempo quanto a me sembra Massimo Ambrosini adesso non è andata esattamente come si aspettavano ma non c'è una ragione per perdere la testa c'è tempo per rientrare in partita che stanno spendendo con il suo divertimento a casa io non ho deciso a fare un paio che vai facendo e trasmetto il cuore della cagliaccia e lei che ci dà per il disco bravo, bravo bravo, bravo il cuore della maglia e pensare al piedo comunque non è parla che il viso del regno non ci fa paura la reprotezione è un ciclo rispetto il pesicolo è un cuore che sempre sarà si riparte la squadra di svantaggio non deve innervosirsi e cittarsi in avanti in modo scomposto c'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato gli affida il pallone i niccoli riesce a toccare il pallone anche rischiando arriva con tre no? buono ha ricompisato subito il pallone salto chiara morta di nuovo lui intercettato il pallone lo scambio tra i due Snyder sfugge il pallone tieni vivo il pallone e poi andare in velocità qui c'è un altro malintenso che si aspettava il pallone buona l'intenzione del passaggio che si aspettava il pallone che si aspettava il pallone che si aspettava il pallone e che si aspettava il pallone che si aspettava il pallone ci si aspettava il pallone gli affidavano Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.